Noi ci prendiamo i soldi, Ethan si prende la colpa. Nessun altro ti ha visto vivo. Nessuno gli crederà. Certo, mi dispiace sentirti parlare così, Claire. Ethan. Sì. Ethan Hunt, cara, ti ricordi di lui, vero? Tu sapevi di G. Certo. Ma quando l'ha saputo, questa è la domanda. Ti dispiace dirmelo, Ethan? Prima o dopo il nostro incontro a Londra? Prima di Londra. Ma dopo che hai preso la Bibbia al Drake Hotel di Chicago. C'era il timbro, vero? Che razza di idiota. Ethan, se sapevi di Jim, perché... Perché la mascherata? Perché correre il rischio? Beh, Claire, tu hai fatto la domanda, tu sei la risposta. Sapevo di Jim. Ma non sapeva di te. In tutta franchezza, Ethan, Claire non era sicura che avresti ceduto alle sue grazie. Ma io ne ero assolutamente certo, avendo provato la merce. Non desiderare la donna d'altri. Ricordi il comandamento, Ethan? Prendiamoci i soldi e andiamo via di qui. Sì, prendiamo i soldi. Ethan. I soldi. Dalle i soldi. Te li sei guadagnati. Ecco i dieci milioni. Sai, Claire si sbagliava su una cosa, Jim. Sì? Che cosa? Buongiorno, signor Phelps. Non sono l'unico che ti ha visto via. E... E... Non. Tutti. Grazie.